Salve a tutti, qui di Vuscriviparla e vi da il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla Lore di Destiny 2. In questo episodio voglio parlarvi dell'ignotexo e di un'interessante teoria che è circolata su Reddit e in rete nelle ultime ore, ossia che l'ignotexo, altrimenti, è che Elsie Prey, la sorella Diana. Questa teoria, appunto, che è stata articolata, è stata proposta da alcuni Redditor e da alcuni Loremaster particolarmente interessati a ogni aspetto della storia di Destiny, si basa su alcuni indizi contenuti in equipaggiamenti introdotti con la mente bellica, che fanno proprio riferimento al rapporto tra Elsie e Diana. Questi equipaggiamenti, che adesso vi ceterò in inglese, sono due astori, la spada e una nave, tra l'altro molto importante perché segna un ritorno da Destiny 1. Allora, questi equipaggiamenti ci raccontano comunque una storia e ci testimoniano come Elsie fosse una grande ricercatrice che lavorava con Anna. E fin qua, niente di strano. Le due sorelle si dedicavano a vari progetti, costruirono diversi astori, tra cui del Ion Drive, Lanceris Overdrive e altri ancora. Erano progetti che ovviamente venivano sfornati all'interno di questa grande fucina di idee e di creazioni che era la Clovis Bray, l'azienda di famiglia in qualche senso, in qualche modo. Ma non solo astori, ma anche tecnologie di trasferimento della coscienza dentro le macchine. Infatti, come possiamo scoprire anche in game, ascoltando i vari terminali sparsi per i complessi di Rasputin, emerge che il progetto EXO nacque come modo per trasferire la coscienza umana all'interno di corpi meccanici. Quindi l'obiettivo di Clovis Bray era riuscire a trasferire una persona, quindi trascendendo la mortalità del corpo di un transumanesimo molto evoluto, dentro un corpo robotico. Gli EXO nacquero per questo obiettivo. Poi furono impiegati per tutt'altri ragioni, come soldati in definitivo. Ma la loro natura iniziale era quello di guscio per menti umane. Semplice e efficace. Elsie partecipò attivamente a questo programma. Era assolutamente coinvolta in tutta l'attività di Clovis Bray, ma si spinse anche oltre. Infatti si interessò anche alle ricerche del collettivo Ishtar. Questa grande struttura sempre di ricerca, situata però su Venere, tra l'altro il luogo in cui incontriamo per la prima volta l'ignota, in cui si svolgevano ricerche però sui Vex, in cui il dottor Shim e la sua equip cercavano di carpire i segreti dei Vex, il loro modo di controllare presente, passato e futuro, e in definitiva capire la natura di queste macchine insondabili. Elsie probabilmente, entrando appunto in contatto con della tecnologia Vex, che studiò anche grazie alla tecnologia di Clovis Bray, vide qualcosa di angosciante, vide un futuro cupo, un futuro pericoloso, e infatti cominciò a sviluppare equipaggiamenti bellici. Gli altri ricercatori della Clovis Bray si stupivano e dicevano perché Elsie sviluppi equipaggiamenti bellici in un'età di pace, prosperità e serenità. L'età del loro non provvedeva a conflitti, non c'erano tensioni. Lei invece andava avanti sui suoi progetti, inventò una nave, Dion Trespass, che tra l'altro c'era anche in Destiny 1, in cui perfezionò la tecnologia di invisibilità. Questa nave era invisibile ai sensori, era una specie di intruso, appunto Trespass con l'intruso, invisibile, capace di superare qualsiasi schermo difensivo senza essere vista. Gli altri scienziati non capivano le motivazioni di Elsie, ma non continuava comunque a supportarla. A un certo punto, deve essersi però stato un passaggio fondamentale nella vita di Elsie. Elsie capì che il suo scopio di, diciamo così, chiaroveggenti, di persona che aveva visto un terribile futuro, trascendeva dalla sua natura umana, e quindi aveva avuto bisogno di un modo per rimanere attiva per secoli, per difendere e portare avanti il suo piano. scelse quindi di trasferire la sua coscienza all'interno di un corpo da exo, diventando una estranea per la sua stessa natura. Lo dice in un pezzo proprio di lore, che era la descrizione della Ion Trespass. Lei dice di essere estranea per la sua stessa natura, cosa vuol dire? Che non si sente più come era prima, ha avuto una trasformazione, perché ovviamente l'inserimento della coscienza umana in un corpo exo causa sicuramente dei grossi squilibri, perché non si sente più una persona, ma si deve, diciamo, in qualche modo far pace con la propria natura meccanica. Lei quindi si sentiva in qualche modo spesata, ma questo di certo non l'affermò. Quando noi incontriamo l'ignote exo in Destiny, ci accorgiamo di due cose. Come prima cosa, che non ha la luce, lo dice lui stesso, io non sono nata nella luce, eppure ha una vasta gamma di poteri, che è appunto il secondo aspetto. Questi poteri dove derivano? Probabilmente dalle tecnologie di Clovis Bray, ma il teletrasporto più che altro dalla manipolazione di tecnologie Vex, perché lo sappiamo, le creature più abili nel teletrasporto dell'universo di Destiny sono indubbiamente i Vex. Quindi probabilmente Elsie, Barley, Gnot e Exo, che a quanto pare coincidono, acquisì queste tecnologie proprio studiando le ricerche del collettivo Ishtar, cosa che aveva già fatto ancora in forma umana. Altro elemento interessante che hanno osservato sempre su Reddit, precisamente il redditor Quintero J, è notato che sia l'ignota che Anna Bray indossano un simbolo, che è una specie di cerchio con una barra in mezzo, che starebbe a dedicare proprio un forte legame tra i due personaggi. Perché inserirlo? Se no Bungie non l'avrebbe inserito a caso. Questa vicinanza anche simbolica, oltre a essere un ulteriore conferma del fatto che i due personaggi sono sorelle, o che comunque sono profondamente legati l'una all'altra. In generale il loro look in qualche modo è anche abbastanza simile. L'ignota, per non essendo un guardiano, si veste un po' da cacciatrice. E questo potrebbe indicarci che in qualche modo riprende quello che è il destino di Anna, che è diventata una vera e propria cacciatrice. Quindi facendo un po' un riassunto, perché è una teoria molto complessa, infatti vi suggerisco, se doveste droppare appunto l'astore, la spada, che si tiene sparando tutti i frammenti sparsi sulla mappa, la nave, leggetevi la lore, perché si parla proprio della parabola della vita di Elsie, delle sue ricerche, e del suo obiettivo di avere risposte riguardo alla minaccia imminente. E anche del suo rapporto umano con Anna, molto profondo, molto stretto, le due sorelle collaboravano spesso, ma si volevano anche sicuramente molto bene. Cosa ci resta in mano quindi di questa complessa teoria? Ci resta in mano una serie di risposte riguardo appunto la natura dell'ignota, ma anche, come sempre nel caso di Destiny, una quantità esorbitante di domande. Ad esempio, mettiamo che sia vero, e secondo me lo è, che Elsie sia effettivamente l'ignota exo. Con chi parlava quindi in Destiny 1? Con Rasputin? Con un gruppo di suoi seguaci? La solita domanda? Con i nove non si è mai capito con chi parlasse l'ignota. Adesso abbiamo un indizio su almeno la fonte dei suoi poteri, che sarebbero appunto ricerche combinate ebrei con le tvista. Ma con chi sta parlando? Perché sicuramente queste entità non esistono più, l'abbiamo vista, sono entrambi in rovina. E quindi con chi parlava? Non lo sappiamo. Avrà un ruolo nel futuro di Destiny? Io lo spero, magari non con Savatun, ma potrebbe avere un ruolo importante nel combattere le navi a piramide. Infatti la visione, probabilmente il futuro che ha visto Elsie, sicuramente va ben oltre il semplice crollo che c'è stato secoli fa, ma ha visto anche probabilmente le minacce più impellenti che stanno arrivando adesso, tra cui proprio le navi. Quindi potrebbe essere lei un'altra preziosa alleata, magari insieme proprio ad Anna, a Rasputin, nel combattere la più grande minaccia che abbia mai affrontato il Sistema Solare. Non lo so, è solo un'ipotesi, però sicuramente un'ipotesi affascinante. Detto questo, ragazzi, cosa ne pensate del personaggio di Elsie Bray? Secondo voi è davvero l'ignota EXO? Secondo me questa teoria di una scienziata che vede cose terribili e si prepara a un conflitto e decide poi di sfruttare l'EXO program per trasferirsi un corpo meccanico, regge? Secondo me sì, gli indizi sono tanti, ce ne sono anche altri rispetto a quello che vi ho citato io. Potete trovare anche certi item droppabili sempre su Marte. Insomma, ragazzi, c'è tanta carne al fuoco. E potrebbe finalmente dare un po' di lustro a questo personaggio l'ignota che compriva un po' dal nulla, veniva poi dimenticata senza più lasciare traccia. In questo modo avremo almeno un po' di background loristico per un personaggio che ha sempre rappresentato un profondo enigma. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa teoria, se secondo voi in qualche modo è credibile o se invece è solo uno sfoggio di erudizione loristica diciamo basato su indizi più o meno importanti. Fatemi sapere se magari avete visto anche qualche altra teoria riguardo l'ignota e se è più, diciamo, pregnante di questa. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Alla mia pagina Facebook sempre Lorenzo Divus e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!